Dell'altarino di Condrada Foiuta di Adrano ce ne siamo occupati più volte. La notizia di oggi è che è stata effettuata l'ennesima bonifica per ripulire l'aria sempre invassa dalla spazzatura. Da anni ormai diciamo che incivili, senza nessuna vergogna, continuano a depositare rifiuti di ogni genere a pochi passi da un altarino. Un luogo sacro, una struttura semplice, con all'interno una statuetta con il sacro cuore di Gesù. Ci sono anche una immagine di San Nicolò Politi, alcuni angioletti e mazzetti di fiori. Un altarino che rappresenta l'immagine della semplicità. Da sempre in disparte nessuno si è mai curato di questa piccola struttura che identifica una zona di Adrano per indicare la strada che conduce allo stadio. Investato anche da erbacce è diventato il monumento all'abbandono. Per non parlare della spazzatura che in maniera ignobile da anni individui, senza nessuno scrupolo, depositano accanto al sacro cuore di Gesù. Insomma è tempo che venga restituita dignità all'altarino della semplicità. Forse è questo il momento giusto per salvaguardarlo. Un momento che arriva a pochi giorni dalla rinascita dell'altarino votivo dedicato alla Madonna della Grazia, che si trova a poche centinaia di metri di distanza. Mentre si inaugurava in un clima di grande festa, l'edicola votiva della Madonna, a pochi passi un altro luogo sacro era in uno stato pietoso, immerso nella spazzatura. Una immagine triste, da una parte la festa, dall'altra il degrado. Per questo motivo durante la festa alcuni hanno pensato anche all'altarino più sfortunato e più maltrattato. Volevo fare una premessa per quanto riguarda questo altarino, chiedendo anche un aiuto all'Aggiunta Comunale, al nuovo sindaco, per il degrado che c'è. E magari, non lo so, con un piccolo aiutino portarlo ai livelli di questo qua, sistemarlo per bene ed evitare tutta quella sporcizia, quell'immondizia che ci circonda sempre. Essere più civile e poi nello stesso tempo con l'aiuto dell'Aggiunta possibilmente possiamo migliorarlo. Possiamo migliorarlo, possiamo ristrutturarlo, farlo più bello, creare un'aiuola, creare qualcosina, perché è una zona un po' diciamo mal ridotta. Dicevamo che la notizia di oggi è la ripulita data in Gondrata Fogliuta, ma sappiamo che gli incivili non si faranno attendere e che il povero altarino sarà di nuovo invaso dai rifiuti. Tranne che la notizia sia il fatto che finalmente c'è la volontà di tutelare davvero l'altarino con il sacro cuore di Gesù e di smettere di buttare spazzature da queste parti. Ne parliamo perché in questi ultimi giorni sono stati lanciati vari appelli in questa direzione. Ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata di incontri con Giovanni Lamela, che si dice pronto assieme a Sicilia Antica di Adano a recuperare l'altarino di Gondrata Fogliuta. Basterebbe poco per valorizzare questo semplice luogo sacro, ma occorre l'impegno e la sinergia di tanti per impedire che l'aria venga di nuovo degradata e per avviare la riqualificazione della struttura. Comune, associazione, cittadini insieme dovranno coordinarsi per salvare questo piccolo altarino. Non sarà affatto semplice perché l'ostacolo più grande è rappresentato dagli incivili e dalla loro spazzatura. Vedremo se questa volta perderà l'inciviltà. Intanto il piano per salvare l'altarino della Fogliuta è partito.